Il sistema decorativo velatura rustica può essere applicato sia all'esterno che all'interno. All'esterno il supporto deve essere rasato o con una classica tonachina, o meglio ancora con una speciale malta rasante anticarbonatazione tipo il nostro rasante W04. All'interno invece, sia su gesso che su vecchie pitture, occorre applicare una mano di primer RV, speciale primer ruvido aggrappante, ed attendere 24 ore. Applicare la prima mano di Spiversil antico di colore bianco con frattazzo in acciaio inox, rasando il supporto. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Dopo qualche minuto, lisciare eseguendo dei movimenti circolari con un normalissimo frattazzo in plastica. Dopo 24 ore, iniziare l'applicazione della velatura. Spalmare velatura con una pennellessa. Subito dopo, distribuirla e lavorarla con un frattazzo di spugna dura, eseguendo dei movimenti circolari. Spalmare velatura con una pennellessa. Spalmare velatura con una pennellessa. Spalmare velatura con una pennellessa. Grazie a tutti.